Benvenuti sul canale Sani, Ricchi e Liberi. In questo breve audio tutorial andiamo a vedere la chiusura del crowdfunding della Endotech e tutte le opzioni che si possono fare entro l'8 di marzo. Dopodiché il crowdfunding chiude e ci vediamo per fine settembre con l'apertura dell'AgeFound con regolari licenze. Ma andiamo a sentire l'audio in chat con tutte le indicazioni in merito. Buona giornata amici, allora in questo breve audio parliamo solo ed esclusivamente della situazione di DAISY, DAISY crowdfunding. Come sapete voi tre anni fa siamo partiti con la raccolta fondi per questo crowdfunding che doveva sviluppare bot di cripto e di forex e raggiungere 500 milioni di capitalizzazione. Cosa che è avvenuta, abbiamo raggiunto 650 milioni di capitalizzazione che ci sono adesso dentro a lavorare, ci sono 250 mila utenti iscritti e il crowdfunding finalmente giunge al termine. Così che al 21 di febbraio al Coca Cola Arena la dottoressa Anna Becker ha dichiarato la chiusura del crowdfunding. Perfetto, ma adesso che cosa succede a tutti quanti noi che abbiamo appoggiato DAISY e la Endotech fino ad oggi? Finito il crowdfunding, ma adesso che cosa succede? Allora vi vado a spiegare velocemente tutti quanti punti presi dalla Zoom e direttamente dalle parole di Anna Becker e da Edward, Ilian e Jeremy Roma e poi faremo alla fine solo un breve resoconto. Intanto Anna Becker ha detto che DAISY è un progetto di lunghissima visione e che tutti quanti i fondi raccolti per il suo sviluppo ci sono. Ci sono già dentro il forex, quindi dentro il trading, ma adesso è ora di far diventare questi fondi un fondo privato. Per fare questo bisogna chiedere due licenze, una licenza crypto e una licenza forex. Ha detto la dottoressa Anna Becker che in questo periodo di stallo in cui DAISY chiude, perché DAISY chiude a partire dal 21 di febbraio fino a, detto, circa il 21 di settembre, ma lascia a tutti quanti gli utenti una finestra temporale che va dall'1 all'8 marzo, dove all'interno del back office della Endotech, magari oggi farò un tutorial o dentro il back office di DAISY, c'è proprio il formulario, anzi in realtà ce ne sono due, per poter chi vuole uscire da DAISY e quindi basta che chiede, ricompila il formulario e può uscire da DAISY. L'uscita da DAISY comporta la restituzione di tutti i fondi che tu hai messo all'interno del crowdfunding, sui quali non paghi tasse e imposte. Se hai degli utili del trading invece sugli utili del trading esiste la performance fee del 30%, questo è regolare, ma chiunque vuole uscire da DAISY, la dottoressa Anna Becker ha detto che potete uscire. Nell'uscire da DAISY che cosa succede? Succede che perdete la possibilità di poter raggiungere nuovi fondi, perdete la possibilità di partecipare anche in futuro al trading di DAISY e della Endotech, tenete presente che il crowdfunding è servito per costruire un bot che adesso verrà lanciato, fra otto mesi verrà lanciato con regolari licenze, ma la Endotech vi lascia comunque a tutti i partecipanti le vostre quote azionariate della Endotech, quindi un giorno avrete valore nominale e dividendi azionari, però non avrete più la possibilità di fare voi trading con i vostri fondi e di partecipare nuovamente in DAISY. Quindi solo gli utenti che invece rimarranno dentro di DAISY, avranno il loro back office che continua a lavorare e continua a produrre, ma i fondi fanno compound automatico per sei mesi, perché? Perché non si possono toccare e quindi quei fondi non sono prelevabili, né gli utili, tantomeno i fondi che tu hai messo all'interno per essere dentro DAISY. Questo perché? Perché dobbiamo diventare edgefound entro fine anno. I prelievi rimarranno bloccati fino a che le licenze non verranno date, quindi quei conti faranno compound. Per tutti quanti quelli che rimangono dentro, però grande e bella sorpresa, il performance fee, quando sarà ora del prelievo, quindi fra un sei mesi, sarà portato al 20%, nel quale è la Endotech che rinuncia al suo 10% che prendeva prima, ma al piano compensi rimane il 15% di divisioni piano matrix, così come è sempre stato. Quindi si trasforma già in un 10% di utile netto per tutti quanti gli utenti che decidono di rimanere dentro la Endotech su fondi trading. A questo punto DAISY, all'interno del back office, ha una pagina dedicata con due link per poter ritirare i tuoi fondi. Compili il formulario e hai sette giorni di tempo, fino all'8 di marzo, per poter uscire da DAISY. Come ho detto, paghi solo il 30% di performance fee sugli utili del trading e niente sui tuoi fondi che tu hai messo per appoggiare il progetto. Il progetto ha i fondi per andare avanti, di te non ha più bisogno, se vuoi uscire puoi prendere tutti i tuoi fondi. Fino all'8 marzo è tempo per fare le domande, poi ci sarà un mese per visualizzare che tutte le domande siano in ordine e dopodiché verrà detto tempi e metodi del rilascio di tutti quanti i fondi. Così che la Endoteca ha di nuovo fatto un grandissimo colpo da maestro, dando possibilità a qualunque utente di recuperare tutto il proprio investimento. Se esci da DAISY puoi partecipare in Limitless, quindi è buono per chi ha magari poco in DAISY dire va bene metto tutto quanto in Limitless. A Las Vegas ad agosto, quando ci sarà il grandissimo evento anche del lancio di Limitless, ci sarà anche l'annuncio di tutto quello che avverrà in DAISY, perché ad agosto si presume che le licenze saranno già in dirittura d'arrivo e quindi si potrà parlare di edge found e quindi si potrà parlare di tutto quello che DAISY ci darà in futuro. Altra nota fantastica è che la Endoteca ha già dichiarato che chi è stato violato da hacker e può dimostrarlo, può tornare a essere proprietario del proprio portafoglio. Sì, perché oggi DAISY non è più online, non è più un contratto su cui l'azienda non può mettere mani, ma adesso si stacca tutto e quindi i conti tornano tutti in mano della Endoteca. Quindi chiunque è stato truffato, chiunque ha dato le 12 parole seme, chi non è più in possesso del proprio portafoglio, gli verrà restituito tutto. Chiaramente devi dichiarare, riuscire a dichiarare che tu sei il proprietario. Ti faranno fare probabilmente un KPC, ma ti faranno recuperare i tuoi fondi. Dopodiché da settembre si potrà di nuovo contribuire in DAISY, si potrà di nuovo contribuire per solo le persone che sono rimaste dentro, ma ci diranno poi modalità e tempi. Adesso andiamo a leggere velocemente i chiarimenti dettati dalle Endotec che dicono appunto che per motivi legali DAISY è costretta a sospendere i prelievi degli utili fino all'ottenimento delle licenze per l'edge fund. Il 21 febbraio 2024 il progetto è uscito legalmente dalla fase di crowdfunding, sono già stati firmati tutti quanti i documenti durante la quale non erano richieste le licenze di gestione del capitale ed è ora in attesa invece dell'approvazione per una licenza di fondo finanziario. Quindi DAISY in questo momento ha già ricevuto l'approvazione per tale licenza. Ora attendiamo solo l'espletamento di tutte le formalità legali che potrebbero richiedere da 1 a 6 mesi. Effettuare i prelievi di profitti per i partecipanti con uno status di fondo non approvato costituirebbe una grave violazione delle leggi, che potrebbe comportare il congelamento di tutti i fondi gestiti e i vari procedimenti legali. Tuttavia il trading forex continua e tutti i membri possono ancora visualizzare tutti i risultati di trading nei loro propri back office personali. Per coloro che desiderano abbandonare il progetto e ritirare interamente i propri fondi è stato inserito un modulo corrispondente nella sezione profilo utente dell'account personale. Fino all'8 marzo chiunque sia interessato può richiedere il ritiro dell'intero saldo compresi gli utili maturati e la risoluzione del contratto con la Endotec. Secondo le regole verrà detratta la commissione del performance fee del 30% sui profitti mentre l'importo del trading verrà rimborsato per intero senza alcuna commissione. Tieni presente che l'uscita da Daisy comporta la perdita di tutti i privilegi ad eccezione delle azioni Endotec ovvero ricezione dei premi del pool di eventi, achievers, build, paysetter, paysetter leader. Non sarà inoltre possibile tornare a Daisy con lo stesso portafoglio. Il team Daisy elaborerà tutte le richieste entro circa un mese, controllerà eventuali violazioni dei portafogli e condurrà le procedure di identificazione del proprietario facendo appunto un KIC. Durante questa verifica i fondi di coloro che hanno richiesto di uscire da Daisy continueranno a essere negoziati. Una volta completata la verifica i candidati dovranno confermare la loro richiesta di uscita e verranno annunciate le tempistiche per il ritiro. Considerando il significativo aumento delle frodi e dei furti dei portafogli in particolari prima del nostro recente incontro di Dubai e desiderando proteggere le risorse finanziarie dei nostri partner, il team di Daisy ha anche fornito un modulo per coloro i cui portafogli sono stati compromessi, che deve essere compilato entro l'8 marzo. Sebbene si siano già verificate situazioni di violazioni del portafoglio anche se non così diffuse, il progetto era in fase di crowdfunding, accettava nuovi membri e non aveva la capacità tecnica per la sostituzione del portafoglio. Nelle operazioni future Daisy Limitless fornirà invece protezione contro le violazioni del portafoglio per tutti i partner. Se qualche truffatore ha già compilato uno di questi moduli per tuo conto, non preoccuparti, contattaci tramite i tuoi sponsor e la tua situazione verrà affrontata individualmente. Il nuovo portafoglio specificato nel modulo non deve essere sotto conto con la stessa frase seed, ma deve contenere una frase seed diversa. Se hai perso le tue 12 frasi o la chiave privata del portafoglio e non riesci ad accedere al tuo account, per questi casi verrà creato un nuovo modulo al di fuori del tuo account personale, ma contattaci in privati tramite l'assistenza. I pagamenti da tutti i pool sono classificati come bonus e quindi sono legali e continuano a essere pagati. Le assegnazioni dei pool builder a Kiver per gennaio, previste per l'inizio di marzo, subiranno ritardi poiché il database dei partecipanti dell'evento di Dubai è stato appena trasferito al Dipartimento Tecnico, richiedendo tempo per l'elaborazione e la verifica dei pool. Il team legale sta lavorando diligentemente per ottenere tempestivamente la licenza di DAISY e passare a una modalità di fondo chiuso edge found in cui qualsiasi importo può essere prelevato dalle persone che rimangono dentro, tanto del guadagno trading, tanto di tuo conto. Puoi ritirare tutto parzialmente o anche tutto completamente. La commissione di profitto a questo punto sarà ridotta del 20% di cui il 15% sarà distribuito come sempre alla rete e la Endotech che toglie il 10% di suo. Così finisce il crowdfunding di DAISY durato ben tre anni che oggi ci porterà regolari licenze a diventare edge found e poi a essere il bot più utilizzato dalla Endotech nel quale poi entreranno ovviamente capitali e nuovi utenti. Ma ne parleremo poi verso fine settembre quando i nostri conti in Endotech staranno letteralmente esplodendo grazie a sei mesi di compound e questa sarà di nuovo la ciliegina sulla torta per tutte quelle persone che credono in DAISY e credono della Endotech. Nel frattempo ragazzi io vi auguro il meglio anche con DAISY che è poi una delle otto aziende che trovate sempre dentro l'infobox però questa è stata una vittoria clamorosa e il bello ancora deve venire. DAISY, Endotech, edge found, fondo comune privato di investimento. Eh sì, così è finita la bellissima avventura del crowdfunding di DAISY. Come abbiamo visto, come abbiamo sentito anche, un successo superiore alle aspettative. Ancora di più il lancio di Limitless adesso è un successo nuovamente sopra le aspettative. Perché? Perché Limitless parte dalle basi costruite di DAISY. DAISY che adesso, per chi vuole uscire, può fino all'otto marzo compilare i moduli. Per chi ha avuto un portafoglio compromesso, fino all'otto marzo può compilare i moduli e tornare in possesso dei propri fondi dentro l'account di DAISY. Per tutti quanti gli altri invece partono sei mesi di stallo completo in cui non c'è nulla da fare se non che vedere nel back office che continua a lavorare e funzionare tutti i nostri fondi che in compound automatico crescono grazie alle percentuali che il Forex continua ad offrire. Vedere un compound fino a fine settembre. Dopodiché avremo anche noi il tasto claim sia sui nostri fondi totali, parziali, che su tutti quanti gli utili che il compound avrà realizzato. E io l'ho già vissuto per tre anni, so che cosa vuol dire sei mesi di compound in DAISY. È veramente la ciliegina sulla torta che tutti ci meritavamo per aver appoggiato il più grande crowdfunding per il crypto trading AI Forex che il mondo abbia mai visto. Questo è DAISY, una delle otto entrate che trovate sempre dentro l'Infobox. Ragazzi vi auguro davvero il meglio che l'universo possa dare a voi, alle vostre famiglie, tutto ciò che vi meritate e che gli state chiedendo.